Benissimo. A questo punto chiedo ai due relatori di minoranza, vi chiamo agli emendamenti, onorevole Quaranta e onorevole Lombardi, che è già pronta. Siamo a pagina ventitré, cominciamo con il 2.1. Ci rimettiamo all'aula. Andiamo a pagina venticinque, 2.6. 2.8. 2.9. 2.21, pagina ventinove. Favorevole. 2.25. Favorevole. 2.26. Contrario. Contrario. 2.29. 2.29. Pagina 32. Contrario. Contrario. 2.32. Favorevole. Favorevole anche noi. 2.38. 2.39. Identici. Favorevole. Favorevole. 2.42. Favorevole. Pagina 36. Favorevole. 2.52. Contrario. Ah, chiedo scusa, forse abbiamo saltato qualcosa. Ho saltato, chiedo scusa. Allora, sempre a pagina 30.